Purtroppo quando cresce l'esasperazione sono esasperate anche le reazioni, quindi se si vogliono capire i problemi bisogna cercare di stare un po' da una parte e dall'altra e tentare di mediare. Io personalmente me ne frego degli immigrati, io abito in collina, a Bergamo, in mezzo al verde, a me che mi frega dei migrati, però quelli che invece purtroppo stanno a Quarto Giaro qui a Milano che hanno a che fare con tutti questi signori di colore africani e che possono anche un po' infastidire, magari se ne fregano meno di me, io proprio me ne sbatto degli immigrati, ne arrivino quanto mi vogliono, ho 74 anni, fra qualche anno sarò morto, ma che cazzo me ne fonte a me degli immigrati, però bisogna pensare anche agli altri, va bene, e gli altri si incassano invece, non sono tranquilli come te, come me, perché anche tu non abiterai in un tugurio. No, io non abito in nessun tugurio per carità, però voglio dire, non me ne frego. Eh, per cui stai bene e te ne fotti degli immigrati, tu te ne fotti degli immigrati come me ne fotto io, ma dai, ma diciamoci, ma non è vero, sinceramente, tu te ne fotti degli immigrati, io me ne fotto degli immigrati, tutti quelli che sono nello studio se ne fottono degli immigrati perché non hanno a che fare con loro, mentre coloro i quali milanesi o romani hanno a che fare con tutti gli immigrati si incappellano, si incacchiano, questo lo vogliamo capire o no, si incacchiano e protestano. Noi no, io, io fra l'altro, se arriva anche qualche nero che viene a lavorare in casa mia per poche lire, sono anche contento, cioè non è il problema mio personale, il problema riguarda il popolo, il popolo mi appiene alle balle, lo volete capire o no? Dobbiamo mandare la pubblicità, sì, no, abbiamo capito, mi sembra chiaro. Proprio per questo, io soli non sento più niente, non capisco più niente. E non sento niente perché c'è un problema sul collega Vittorio. Grazie a Vittorio Fede.